si vabbè ma quanto lontano madonna no vabbè madonna tocchiamolo a terra molto ma come hai fatto ma che ne so che ero 240 metri buonasera chatolotol benvenuti ben trovati ma che bello ma che siamo tutti qui ma è proprio pazzesco che siamo qui tutti insieme che bello che bello ringrazia Anna mia che ti metti si va a spocca buffi no 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 si butta a spocca buffi ma è proprio ci vogliono tutti la principessa sotto c'è i mutandoni eh sono mutandoni reali proprio una cosa incredibile tutti i doli in realtà sono proprio i pantaloni proprio la principessa allora a me un po' mi fanno strano no sono scesa troppo sto stupida anch'io di brutto vabbè andiamo nella nostra casa quella lì la solita mi raccomando sento un fracasso di gente vabbè ma ce lo prenderemo noi quest'isola finiti che non è un'isola sì sì ce la faremo noi ah guarda qua c'è anche io ci porto sempre bene quando ando di là aspetta ah cassa cassa mia c'è no raga è pieno no 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 è colmo è colmo è colmo è colmissimo è il colmo frà aspetta ok so armata fino ai denti ho un'arma ho un'arma c'è uno sopra di te l'ho stoccato mi stanno già facendo malissimo arrivo vi proteggo sta andando bene oh abbiamo altri no 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 stoccato c'è un altro c'è un altro bello zompa non è un bot zompa di brutto no aveva uno di vita ma è sopravvissuto ma ha un punto esclamativo in testa eh no no un bot non è solo quello fidati non è solo quello fidati fidati guarda come corre cioè io lo vedo eccolo lì guardalo ah ma perché segue qualcuno è arrabbiato è un brutto hanno messo in botto la spookabuffi ma ci sparano ma ci mancano quelli dove sparano da sud est eh io se prendo la battiera io prendo la battiera da qui pure io sono a prendere la battiera sento sparare ma lontano sono tutti da lì ok allora io mi bevo intanto questo succo e vi lascio delle bottigliette ve le vedete voi lì Anna lì arrivo ho trovato lo scudo per tutti lo metto bravo lì lì in questa casa qui ok esce da qualche parte e lì dentro e lì dentro è sopra il tetto lo vedo lo vedo lo vedo lo è puntato 10 ah spaccato quello ma dal tasso c'è qualcosa non c'è un cavolo raga niente eh no è tipo veramente schifo allora sbocca puffi mi sta deludendo in maniera proprio abissale io ve lo dico era molto meglio quando ci andavamo prima mi ricordo che si trovavano i cecchini che soddisfazione raga che hanno depotenziato la nostra sbocca puffia visto che diceva molto troppo oh comunque lì sopra ci sente sparano saliamo saliamo sono lì sopra ok andiamo ai addosso sono un pesce non ho paura di pesciare bello questo cecchino lo prendo raga è pie io non dico ma è pieno di gente mi sa bello bello la catana cico combattiamo per la catana è sopra di noi la catana ok ma nel senso che è sparito no no è sopra di noi mamma mia ma drotto ma come arrivate la sua è impossibile ma perché ma l'occhio ma io sono morta in volo ma come è possibile no ma ecco lì sopra ok è morto quello è morto però c'è altro se c'è altra gente vieni qui vieni qui ma si fa salire non lo so perché lui aveva la catana è salito con quella rompere tutti i muri che quello prima o poi cade ma rompete pure da dentro rompete pure sopra sono anche gli scudi neumedit grazie mille oh quanto sparo devo questo eccolo a questa chiapa oh anche lo scudo per te aspetta questi qui ci sono anche per voi no non usate lo scudo le fuori c'è il cannone di bevuta pazza prendete quello questo mi piace non è vero fa schifo no questo via ok andiamo andiamo aspetta che vi curo un po' venite qui oh grazie oh grazie hanno sparato oh grazie oh grazie oh grazie oh grazie oh tipo no è lì è vero eh no eh che potenza ma è già e non è da solo occhio eh eh sì hai ragione stuccavo questo però ma perché no è morto come è quittato è morto era solo era solo no no perché è rimasto a terra poverino ha abbandonato il suo team ha detto no fra io non ci sto poverino però ah la zona la zona ci puoi fuori ok dai siamo arrivati siamo arrivati sono morti siamo andati dietro il sassolone sono morti sono per terra no arrivo sto andando dietro il sassolone eh anch'io ci sono vieni vieni arrivo dove sono è lì qui sopra davanti ci sparano da dietro non ho capito ma infatti anche io sento colpi da cecchino ah quello è quello ero io ah ma no che quando mi fanno fitta fitta nelle orecchie significa che è un cattivo eh no ma erano lì lì sopra sono scappato lì a sinistra va bene andate a prendere che bello ecco infatti vanno da 185 sono qui davanti a noi ok se saliamo lì sopra li vediamo dall'alto andiamo siamo pronti principessa pesce ha bisogno di kill ok e lui è partito c'è io che muore va beh ma non c'è nessuno sopra sono lontani vedi lui fa è ricognitore lui ecco lì 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 anda lì ditto dritto e corron come pazzi c'era anche uno qui sotto non l'ho visto per un secondo gli sparo le uova vai sulla casa sulla casa non li vedo più di nuovo e tutte quelle casette lì in tutto ah sì e beccati se uova bra guarda la pioggia sembra c'è fio andrà fuori ma lo senti ha tessuto tutto oh via sinistra guardate quanti sono guarda come scappa quello pezzo di e cambia il cecchino mamma mia grandissimi oh rompete la casa con le uova rompete la casa con le uova le uova sto dietro e beccati questo questo so fare io di più di più di più così così ecco fatto ah ma stregato è tipo in Giappone no sono qui ho visto delle uova buone per saltare ma lì c'è una catana andavi a prenderla lì sopra vado salto o comunque c'è anche la tercetta sinistra no la zona di nuovo vanno a veloci a appigliare la catana posso saltare sono un pesce Anna prova la fila qui venga aiuto i pesci salvate Anna i pesci non saltano nuotano prendi la catana prendi la mia io vado a prenderla no 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 la prendo io la prendo io dov'è la catana è lì 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 non la vedo c'è Cico non la vedo non l'hai presa te l'ho dato è lì dietro sono nella tempesta è qui Anna sono nella tempesta sorrete poi mi curo io lì putta che è andata avanti e piglio la catana Anna corri presa spammala subito perché ho sbattuto contro il sasso oh c'è quella macchia davanti a noi corriamo oh di brutto è lì da me sei non sei venita la macchina non è un buono non è buono guardate la macchina che esplode è esplosa e l'ho ucciso babbo si la principessa torna in pista perché esplosa anche il sasso sto prendendo tutto fuoco lì oh no abbiamo fatto un danno la foresta va a fuoco ed è colpa ma fuoco tutto comunque stava correndo proprio da 20 minuti con la macchina con gli aerei e non aveva nulla oltretutto era tipo disperato era un corridore da solito hai detto prendo la macchina adesso vado a vincere la partita permesso spero che c'è una katana ma sparano davanti a noi ma chi se ne frega lasciali sparare noi siamo potenti noi abbiamo la benedizione comunque io c'ho un pompa che fa schifo tutto verde io c'ho lo grigio brutto antifadico io ho anche tutto grigio ma se ho messo buon male sta partita ma di brutto ma non fa niente perché è come lo usi che fa la differenza esatto non importa il colore sì vabbè ma quanto lontano madonna no vabbè madonna madonna tocchiamolo da terra tocchiamolo da terra morto no ragazzi ma come hai fatto ma che ne so ho detto che ero 240 metri wow mamma mia che bello è stato bellissimo quello lì ha tirato un pugno alla scrivania che è vero in tutta la città ancora non capisce com'è successo mamma mia l'ho sentito da qui proprio che bello ah questa è la questa è la serata della principessa pesce che bello ah ok adesso prossimo differenza troviamola perché è possibile è più grande perché c'è la zona ok raga sopra il tetto è l'unica ho capito ma ancora non è partita posso fare un test se ci arriviamo vai ci arriviamo raga ci arriviamo no raga ci arriviamo è la fine e io ho il pollo non ho la catana non ci arriviamo ci vieni qui giù la zipline prendi la zipline sono in questo bar il bar più sicuro che vuoi stare lì no ecco vieni qui non c'è nessuno tanto prendi la zipline arrivo spara la zolle che spugli quello si è catanato sei rimasti due squadre voglio essere due vieni che l'ho rivelato bravissimi vai per terra ok stavo cercando è lì a destra a destra a destra la safe perché preso ok boom comunque è un sacco dentro la città non è che ci viene da dietro è da solo è da solo quello lì lo stucchiamo di brutto sto cercando di guardare giù ma non ho paura è una terra lì è arrivato ha catanato lì i pesci è andato sotto dai questi pesci no mi fanno esaurire questi pesci mi fanno esaurire a me è fuori dalla zona no raga muore è morto è morto è morto ecco è un bot no c'è anche lui ragazzi siamo ancora in zona sì è qui sotto però è sotto di noi è allora la zipline io sto controllando la zipline se provo a salire però non c'è io sto in quella interna però è fuori e a me sembra che in realtà è il centro io sono caduto no ho preso la la tugina stupida non possiamo prenderlo no no ormai si è andato mi dispiace no buono tre perché non avevo la catana è morto orribile sostituzione sostituzione dell'ultimo minuto dai forse posso recuperarlo ho la catana io no è lì sotto anche l'altro raga che famo e io sto andando in giro per cercarlo ma non mica lo vedo è in questo edificio qui sotto secondo me è sicuramente lì cercate che non mi resta raga noi siamo ancora in zona oh l'ho visto è qui qui è qui sono ecco sotto l'ho visto camminare sta salendo qui sta salendo da dove la prende si sta salendo entrambi hanno un bot eccolo dov'è la zipline controllate le scale è questa zipline è questa qua non è sceso no vabbè guarda questa guarda guarda la mossa oh ecco no raga mi stai con cosa che scheda perché l'ho sentito eh ma ci muore è sotto i roi ecco è salito e ora sta schietando dio la zona e fai safe ah la zona si muove raga e la zona si muove eh raga saliamo solo quel tetto lì con la cosa con la katana ok è l'unica è tanto adesso sicure e bevete i succhi in caso lo bevo lo bevo anch'io raga madonna ma che sto non combino oh stanno uscendo da qua dentro eh occhio andrà da qui dentro si no devo correre occhio ah ma si muove entra qui entra qui sta cosa non lo sapevo vieni qui vieni qui corri corri da qui dalle scale no qui qui vieni 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 lo sento lo sento no 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 togli ti dai ah paccati muri trappola qui da chi puri no 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 paccate che questo ok no no non quella in zona eh ah bravi bravi è l'ultimo è l'ultimo ah madonna mamma mia madonna spostarsi tra gli edifici è difficissima comunque ho la safe che fa a fregarella e a destra e no e invece a sinistra no no io ero rimassa alla cosa che tipo quando la safe si chiude è tutto viola e chi muore muore non che cammina mamma mia ma infatti io pensavo non andasse a fregarella un po' così un po' così un po' così oh ferma mamma mia no raga principessa pesce mamma mia chat grazie mille per essere rimasti con noi fino ad adesso mi raccomando andate sul canale di lion a vedervi tutti i video lionici che sono molto belli e se volete anche sul mio canale oggi è uscito un video quindi lo trovate lì e noi ci vediamo domani sera sempre alle 19 con una nuova live buonanotte ciao